Bene, con piacere intervengo sugli aspetti legati al stato di nutrizione nel corso di questa grave epidemia che sta colpendo un po' tutto il mondo. Ci sono due aspetti importanti da tenere presente e sono i seguenti. La malnutrizione per difetto, un soggetto che per varie patologie è malnutrito, ovviamente diventa in una certa misura anche immunodepresso. Lo stato di nutrizione incide molto sull'efficienza del sistema immunitario, per cui è chiaro che un soggetto che sia malnutrito è molto probabile che resista meno bene all'insulto del virus. D'altra parte esiste l'altra faccia della medaglia, cioè essere costretti a stare a casa, quindi a svolgere in sostanza molto meno movimento di prima, comporta anche il rischio opposto, cioè che i soggetti diventano supernutriti, cioè obesi. Dovremmo quindi cercare di comportarci nel modo migliore mantenendo una buona alimentazione, una sana alimentazione, una dieta mediterranea e controllando il proprio peso durante questi giorni che speriamo finiscano presto. Grazie.